Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovate all'appuntamento con Il Fatto, torniamo ad occuparci di economia, lo facciamo presentando l'ultima pubblicazione data alle stampe per Carabba Editori del professor Giuseppe Mauro, ospite nei nostri studi, buonasera professore, bentornato qui a Rete8, oggi non parliamo di questioni contingenti relativi all'economia che cambiano di settimana in settimana, questo ovviamente lo facciamo periodicamente con lei, ma non è l'argomento di questa trasmissione, l'argomento di questa trasmissione è una riflessione più profonda, quella che fa nel suo saggio che si chiama Campioni nascosti, storie di imprese che fanno crescere l'Abruzzo, che è una riflessione un po' a bocce ferme, per elaborare una immagine che poi è quella risultante dal suo lavoro e quindi dalle pagine del libro, di un mondo dell'impresa abruzzese che ha una sua precisa connotazione, vogliamo chiamarlo modello, vogliamo chiamarlo humus imprenditoriale, però l'Abruzzo è fatto appunto di tanti campioni nascosti. Una bella intuizione a mio avviso, ma diciamo anche uno studio che è durato per anni rispetto alla conoscenza profonda del territorio da parte sua, professore, ecco com'è nata l'idea di questo libro e anche un po' di fare il punto su una serie di fenomeni che sembrano essere caratteristici dell'economia della nostra regione. Buonasera, grazie. Le fonti di ispirazione sono essenzialmente due, un libro tradotto in italiano da parte di Simon nel 2001 e uno più recente nel 2009 del direttore del Sole 24 ore che hanno cercato di scoprire una la realtà mondiale e l'altra la realtà italiana. Allora mi sono chiesto se era possibile fare un viaggio per conoscere l'Abruzzo attraverso le storie di queste imprese e quindi si è creato questo rapporto tra la conoscenza, l'intervista con queste imprese e il mondo in generale imprenditoriale dell'Abruzzo, quindi un viaggio comune. e sono venute fuori delle storie interessanti che esprimono un po' la storia economica di questa regione perché ci sono delle fasi storiche precise, c'è una prima parte del grande sviluppo dell'Abruzzo e secondo me l'Abruzzo ancora oggi mantiene la caratteristica di essere un caso particolare tra le regioni italiane per lo sviluppo che ha avuto nel passato e diciamo pure per la buona tenuta che attualmente ha e dall'altro lato poi i grandi cambiamenti connessi alle crisi finanziarie, alle crisi, direi ai mutamenti geopolitici e soprattutto all'intervento della concorrenza internazionale che ha un po' modificato il quadro precedente. E allora mi sono chiesto ma le piccole imprese, le piccole e medie imprese soprattutto che non sono visibili sul mercato ma che sono efficienti, sono competitive, che ruolo hanno? Ecco allora lo studio, diciamo così, questo rapporto tra il saper fare che è la tradizione della nostra regione con il saper innovare e quindi la capacità di affrontare tutte le sfide che il mercato di volta in volta a posto e questo secondo me è un'esperienza molto interessante che se mi è consentito richiama un po' il modello che io più volte ripeto in determinate circostanze e cioè questo modello è indogeno e esogeno che ha l'Abruzzo, esogeno perché è caratterizzato dalla presenza di grandi imprese ed è indogeno perché appunto c'è questa presenza diffusa di piccole imprese che stanno sul mercato e riescono ad essere competitive. Ecco, appunto, noi in Abruzzo abbiamo imprese che poi hanno anche un management di tipo familiare, anche uno sviluppo di passaggi generazionali all'interno di famiglie di imprese, di grandi imprese, voglio fare tre nomi perché ovviamente sono quelli che hanno assunto una caratura internazionale, la Toto Holding, Walter Tosto, la De Cecco, ecco, diciamo, si tratta di grandi imprese, campioni non nascosti ma palesi di economia. Ecco, io le chiedo potenzialmente quante ce ne sono di realtà che hanno questa possibilità di sviluppo in uno scenario come quello attuale, che è diverso da quello del grande boom in cui faceva riferimento? Ma io ho potuto riscontrare attraverso le interviste che quelle imprese che hanno introdotto questo ricambio generazionale con figure, diciamo, professionali un po' diverse rispetto al passato, tipicamente tradizionali, hanno realizzato un percorso di sviluppo direi molto più forte, più stringente rispetto a prima e ci sono nel campo del caffè, nel campo della pasta, ci sono realtà che hanno realizzato questo processo di cambiamento generazionale che poi è un processo che porta ad affrontare in maniera più incisiva la concorrenza e quindi in maniera più incisiva a collocarsi sul mercato, c'è una capacità di essere locali ma al tempo stesso di essere globali. Ci sono anche dei ritardi obiettivamente, soprattutto in alcuni segmenti industriali, un esempio per tutti è per esempio il caso del tesserabbigliamento dove ci sono ancora dei ritardi in tal senso, ma nel complesso questa volontà di ricambio generazionale mantenendo la testa all'interno dell'azienda e molte di queste imprese che non a caso chiamo campioni nascosti è perché oltre alla produzione all'interno hanno anche un team che si dedica a ricerca e sviluppo, alla conoscenza dei mercati, ai processi innovativi, alla tecnologia e questo fa sì che piccole realtà hanno percentuali in alcune circostanze di export che raggiunge anche il 70% che è ovviamente una percentuale molto elevata e raramente noi conosciamo la storia di questa impresa. Ma nei processi di internazionalizzazione di competitività sempre più frenetici e anche violenti sui mercati riescono queste piccole realtà di eccellenza poi anche a soddisfare una necessità di volumi di produzione che siano in grado di proiettarle sui mercati, sui grandi mercati e in questo che tipo di ruolo devono avere le politiche di gestione dell'economia, le politiche industriali della regione, del governo? Ecco questo è un punto, direi un punto cruciale dell'analisi perché molte di queste imprese si collocano all'interno di nicchie, ci sono alcune che prima citava che hanno un ruolo direi nella natura internazionale e che chiaramente sono sul mercato visibili a tutti, invece queste altre realtà, io vorrei fare un esempio, ecco per esempio un prodotto tipico tradizionale che è quello dello zafferano, che io introduco all'interno dell'analisi, oppure quelle delle banche di credito cooperativo per quanto riguarda l'aspetto creditizio, sono piccolissime realtà radicate nel territorio che sono nicchie sul mercato internazionale, ma hanno una capacità laddove si collocano di essere fortemente legate ai processi di esportazione e questo a mio avviso rappresenta un po' il cuore di questa nostra regione, ecco come dicevo prima questa grande capacità di saper coniugare la tradizione con l'innovazione, che non è assolutamente una cosa molto semplice, un altro aspetto che emerge dall'analisi di queste credo che siano 22 imprese, ovviamente ce ne sono molto di più, la brucia 124 mila imprese, sono case history come si dice, perché poi in tanti si identificheranno nel leggere il libro, magari con l'azienda che conoscono di più nella loro provincia, nel loro territorio. Perfetto, perfetto, e quindi c'è questo viaggio comune come io l'ho definito. Ecco, io appunto dicevo, la seconda parte della mia domanda, piccolo e bello, poi però quando si diventa grandi c'è la crisi di crescita sui mercati, su che cosa deve intervenire la politica industriale della regione, del governo nel sostegno a queste imprese e in quali termini, quali sono le loro priorità, le loro esigenze, lei che le ha conosciute, le ha visitate? Ma io credo che il problema principale è che, e qui parlo in linea generale ovviamente, non con riferimento alle imprese da me citate, è che c'è un fenomeno anche di nanismo, cioè molte imprese piccole, pur avendo le potenzialità di stare sui mercati internazionali, hanno un problema di massa critica nel fare gli investimenti, nel conoscere i mercati internazionali, nella capacità di approvvigionarsi sul mercato internazionale e quindi ovviamente l'intervento della politica industriale, di una politica industriale adeguata è quanto mai opportuno, cioè aiutare queste imprese a un processo di rafforzamento, che non significa necessariamente come dire, fusioni tra piccole imprese, ma soprattutto può significare appartenenza a rete di imprese, tali da poter appunto avere un'aggregazione. Ma servono anche nuove figure professionali, manageriali per la competitività internazionale. Ecco, un altro aspetto fa bene a considerare questa questione, cioè un altro aspetto che soprattutto in quelle imprese altamente innovative, che io cito nel libro, si sta creando una simmetria tra domande e offerte di lavoro. Questo è molto importante, cioè nel senso che molto spesso noi ci soffermiamo giustamente sulle percentuali del tasso di disoccupazione, mentre in Abruzzo, in quanto regione dinamica, vivace, che sta sui mercati, bene, si sta verificando un divario tra una domanda da parte delle imprese di figure professionali, altamente rappresentative, professionalizzate, capaci di interpretare il mercato e viceversa un'offerta di imprese che sembra essere un po' un'impresa ancora, diciamo così, tra virgolette tradizionale, incapace. E quindi questo divario, soprattutto per quelle imprese più innovative, ci sono dichiarazioni proprio, ecco, di alcuni imprenditori che manifestano questa esigenza che dicevo prima. Poi c'è l'aspetto finanziario, professore, perché negli ultimi anni abbiamo assistito anche a corposi interventi, addirittura acquisizioni totali di grossi piccoli marchi, li chiamo così, in particolare nell'agroalimentare, penso al settore ventivinicolo, da parte di fondi esteri, che però hanno mantenuto il managgiamente, anche oltre naturalmente il marchio, che aveva evidentemente un suo buon posizionamento, hanno mantenuto il management e anche la collaborazione di queste famiglie. Ecco, secondo lei questo è un fenomeno positivo o negativo? Beh, io penso che se l'intervento nell'impresa da parte di un fondo significhi investimenti, significa risorse, significa rafforzamento non solo innovativo ma anche organizzativo della stessa impresa, io penso che sia un fatto positivo. Sia un fatto positivo ecco con l'obiettivo che le risorse rimangono all'interno dell'impresa, che il management si formi progressivamente nell'impresa e che ovviamente non ci siano vocazioni di, diciamo così, di delocalizzazione da parte della nostra regione. Si diceva prima, c'è bisogno di investimenti, ora non vedo dubbio che l'investimento può venire o un investimento pubblico con le politiche industriali di cui si parlava prima oppure con l'investimento privato. Se questo investimento privato porta risorse e consente alle imprese di rafforzarsi sul mercato, ben venga. Quindi non le snatura nella loro, anche perché il valore aggiunto è proprio questo marchio e questa dimensione. Come mi pare se si è verificato nei settori primi indicati, nel settore vinicolo. Esatto, quindi c'è un futuro, ecco siamo gli ultimi due minuti, per politiche industriali in questa regione che tendano a valorizzare queste realtà e soprattutto di cosa hanno bisogno, anche dal punto di vista delle infrastrutture, penso delle reti telematiche per poter posizionare i propri prodotti, queste imprese dei campioni nascosti. Sì, io penso che queste imprese abbiano bisogno soprattutto di una politica industriale capace di essere proiettata nel futuro, cioè nel senso hanno bisogno di investimenti continui, dove molto spesso il singolo imprenditore non è in grado di intervenire con tutte le sue capacità. Una politica industriale, se mi è consentito, noi abbiamo in Abruzzo una grande risorsa che è il capitale manufatturiero, noto a tutti, al di là dei problemi dell'automotive che si stanno sviluppando in questo periodo, però è una regione manufatturiera. Io penso che se questa regione con un'adeguata politica economica riesca ad associare a questa realtà primaria un'altra tipologia di sviluppo che è quella ad esempio dell'ambiente, del turismo paesaggistico, è un dono del passato per costruire il futuro. Se noi riusciamo a coniugare questi due aspetti, da un lato manufatturiero, dall'altro lato il terziario, il turismo, bene io penso che questa regione possa godere di un grande percorso di crescita economica, ovviamente con tutti i problemi che poi, problemi esterni che il mondo ci presenta quotidianamente, che sono quelli delle crisi economiche, delle crisi finanziarie, della pandemia, della guerra e così via. Quindi io sono abbastanza fiducioso. Ultimo minuto per dire quali altri player, oltre ovviamente alle istituzioni politiche che determinano le politiche industriali, devono entrare in campo. Mi riferisco alle università, mi riferisco alle camere di commercio, mi riferisco a tutti i soggetti che devono rendere servizi utili alle imprese, sia in termini di formazione e anche di realizzazione di una crescita dimensionale. Che ruolo anche etico devono svolgere? Io credo che tutti gli attori economici e sociali debbano avere la consapevolezza di un progetto di sviluppo per questa regione. Un progetto che, io insisto molto su questo aspetto, che deve trovare al suo interno una componente fondamentale, che è la componente della fiducia e dell'ottimismo per il futuro di questa regione. Molto spesso io noto che ci sono fenomeni di pessimismo abbastanza diffusi che portano all'immobilismo. Che per l'impresa è la situazione peggiore. Per l'impresa questo è estremamente negativo. Invece tutti gli attori devono avere questa capacità di proiettare la regione attraverso una rete di consenso sulla base delle rispettive competenze. Politica industriale, intervento dell'università per modificare eventualmente alcuni piani di studio correlati alle attuali esigenze di trasformazione dell'economia e oltretutto poi tutte le associazioni di categorie che sono un po' il cuore pulsante delle rappresentanze delle imprese. Abbiamo questa fortuna di avere campioni nascosti, abbiamo grandi imprese grandi imprese che sono portatrici di innovazione. A questo punto credo che esistano gli ingredienti per poter costruire un futuro più moderno. Io ringrazio il professor Giuseppe Mauro che ci ha dato un'idea di questo libro perché non è giusto poi spoilerarlo perché va letto, va anche studiato in parte pagina per pagina che io ricordo. Campioni nascosti, edito da Carabba, storie di imprese che fanno crescere l'Abruzzo in libreria ormai da qualche giorno, da qualche settimana. Grazie ancora, arrivederci, buona serata. Grazie.